Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, abbiamo fatto già diversi video sull'intelligenza artificiale e su diverse applicazioni per computer per l'intelligenza artificiale. Oggi però ti voglio far vedere 5, forse 6, non lo so, adesso vediamo, applicazioni per cellulare che mi hanno stupito davvero tanto tanto. Iniziamo immediatamente, non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale, questi sono tutti gli altri miei social e dai, iniziamo immediatamente. Però prima di partire lasciatemi ringraziare lo sponsor di oggi che è questo qui, Hank Beat. Mi hanno dato da provare queste cuffie E700 che mi hanno davvero stupito sia per la cancellazione del rumore, sia per la qualità del suono e non ultimo per la durata della batteria. Infatti sono comodissime quando le metti e davvero non le senti per anche tantissimo tempo. Io sono qui spesso a dover montare i video, quindi a concentrarmi, quindi magari a studiare, allora porto le cuffie, le indosso per tantissimo tempo e queste adesso sono le mie preferite. Guardate ad esempio all'interno della confezione, veramente molto molto rifinito e come vi dicevo comodissime. Ci arrivano anche con la sacchetta per poi poter mettere i vari oggetti che ci sono e cioè molto semplicemente un cavo ed il cavo di ricarica. Qui abbiamo tutte le varie pulsantiere, quindi l'accensione più e meno per quanto riguarda l'altoparlante, la cancellazione del rumore ed in basso abbiamo il plug per la ricarica. Possono essere indossate davvero per qualsiasi situazione all'aperto, al chiuso, dove volete. Tecnologia LDAC senza perdita di segnale, anzi tre volte i dati in più rispetto al bluetooth normale. Abbiamo detto cancellazione del rumore fino a 35 decibel, driver a doppio diaframma, bluetooth 5.1 e un'autonomia della batteria fino a 60 ore. Ed eccole qui, queste sono quelle che ti voglio far vedere. Iniziamo da Perplexity, questa è veramente fantastica. Mi ha stupito davvero tanto, iniziamo ad esempio a fargli qualche domanda e lo facciamo parlando perché le applicazioni da cellulare si caratterizzano con il fatto che tu puoi parlare. Vediamo, gli facciamo qualche domanda. Mi aiuti a convertire le unità di misura? Vediamo che dice, guardate che mi dà già dei video e poi, vabbè, adesso mi dà la risposta in inglese. Aspettate, eh. Mi aiuti a convertire le unità di misura e la risposta la voglio in italiano. Ecco qui, certo, ti posso aiutare a convertire. Vedete, già ti dà alcune conversioni di unità di misura, ti dà quelle abbastanza più comuni e la cosa bella di Perplexity è che ti dà altre informazioni. Vedete come si convertono le unità di misura in un sistema imperiale? Quali sono quelle utilizzate in costruzione? Adesso gli facciamo proprio un esempio. Mi converti 100 km orari in metri al secondo e poi in chilometri al secondo? Ed ecco qui la risposta. Aspetta, non lo so, vediamo se lo fa. 100 metri al secondo, 3,6. Qual è la formula per convertire? Guardate che poi qui puoi entrare all'interno di altre cose. Altre cose belle di Perplexity è che qui ad esempio hai il tasto discover e quindi puoi vedere ad esempio cosa chiedono gli altri utenti o tante altre notizie molto carine. Bene, andiamo avanti e passiamo a quello più famoso di tutti e cioè chat CPT. Ora, chat CPT, guardate come qui hai la possibilità del 3.5 oppure 4. Io vado direttamente con il 4 e ad esempio gli scrivo mi aiuto, anzi no, glielo voglio dire e guardate che questo parla anche e quindi glielo faccio, guarda eh. Mi racconti la storia della Ferrari dall'inizio alla fine. Vediamo. Ancora ci sta pensando. Vediamo che dice. La storia della Ferrari è un affascinante viaggio nel mondo dell'automobilismo. Ecco appunto. Quindi pensate come addirittura posso posso vedere, quindi posso ascoltare, scusami, posso ascoltare, magari sto con le cuffie e posso parlare con l'intelligenza artificiale. Ovviamente gli posso anche scrivere, scrivimi la storia della Ferrari. Vabbè oggi non lo so perché ce l'ho con la Formula 1 e guardate tra l'altro se tu lo tocchi senti anche una piccola vibrazione mentre lui scrive. Avendo la possibilità di del 4 ad esempio e puoi andare su image generator e ad esempio gli puoi dire fammi una Ferrari nel deserto. Vabbè vediamo un po' e quindi puoi anche fare le immagini. Tra l'altro la cosa che ho visto è che a volte quando io utilizzo CACPT sul computer è a volte un po' lento. Guardate questa dall'applicazione è più veloce a mio avviso di quello che io ho sul mio computer. Vabbè questa è così giusto per dire per dire mentre stiamo aspettando della creazione dell'immagine. Guarda ti dico anche la creazione dell'immagine a meno che io non ho un problema sul mio computer ma anche la creazione dell'immagine qui è più veloce rispetto a quella che guardate 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 che splendida questa foto fatta da Dalli. Benissimo andiamo avanti perché guardate adesso ve ne faccio vedere alcune veramente fantastiche. Iniziamo con Elsa. Quanti di voi vogliono imparare l'inglese? Io, io sicuramente. Guardate come questa è ovviamente questa è sia a pagamento che non però Elsa nella parte non a pagamento ad esempio guardate qui adesso vi faccio ridere perché parlo io in inglese quindi pronti pronti a ridere improve pronunciation ok got it ok nel giorno 1 vediamo vedete come io ho già iniziato a fare qualcosa pronunciation skill ok nice aspetta vediamo se me lo dice nice ah sì non me l'ha detto perché me l'aveva detto ieri sera e avevo fatto una figuraccia perché non è riuscito ad andare avanti andiamo avanti va bene non so se l'avete sentito aspetta eh nice to meet you aspetta no devo fare nice to meet you wow sono andato bene guardate che non è facile adesso sono stato fortunato forse perché ero emozionato nel fare bella figura con voi però guardate come ho anche altre skill del tipo practice daily lecture e quindi a queste upgrade quindi va bene study by topic vediamo un po se study by topic ok la pronuncia lo possiamo fare study by topic ok lo possiamo fare vedete come possiamo studiare ad esempio in base a dei topic è bello perché tu qui eh ti dà la possibilità di migliorare ad esempio la pronuncia con qualcuno che la ascolta ecco diciamo ma ma siete pronti perché questa è veramente fantastico pi proprio si chiama così pi guardate come questo è bello e io ieri sera mi sono divertito proprio a parlarci guarda qui eh adesso perdonatemi se gli parlo in inglese ma perché ti voglio far vedere come poter imparare una lingua ad esempio diciamo un aiuto ad una lingua con l'intelligenza artificiale andiamo un po could you please help me to improve my english absolutely improving your english skills is a great goal what would you like to practice today work to work on grammar vocabulary conversation or something else oh I want to improve my conversation fantastic conversational english is a great skill to have let's practice by talking about your hobbies what are some things that you like to do with your free time ecco quindi adesso non vi annoio ulteriormente però vedete come praticamente adesso spero che voi abbiate sentito non so perché si sente così così piano non lo so ieri parlava più più forte vabbè adesso poi devo vedere magari le impostazioni però ieri proprio ho fatto delle discorsi con lui quindi io facevo discorsi e lui mi diceva ad esempio qual era il meteo no mi ha chiesto io gli ho chiesto qual era il meteo lui è andato su internet ha controllato il meteo e mi ha detto ma guarda che in Italia il meteo non è così come mai sta in una zona particolarmente piovosa insomma ho instaurato una conversazione con l'intelligenza artificiale vabbè con la gente di casa qui che mi guardava perplexa perplexa andiamo andiamo avanti quindi ho fatto vedere quasi tutte i writer ecco questo è un aiuto per scrivere guardate molto è in inglese però ovviamente io gli ho già impostato la lingua italiana vedete qui la lingua italiana e quindi ad esempio guardate qui abbiamo tutti i prompt che posso scrivere che posso ottenere sui social creatività email lettere idea e così via ad esempio prendiamo proprio idea brainstorming ideas tu vediamo se poi ce lo da in italiano tu la storia della termodinamica vediamo una cosa che sto cercando di imparare in questi giorni vediamo un po come si fa l'invio non mi ricordo vedete come mi può chiedere ad esempio il il tono friendly luxury rilassato professionale o così via io lo voglio si professionale quindi poi il testo lo vuoi short medium long e così via lo voglio lungo e vediamo un po vediamo un po se me lo fa guardate come mi dice di vedere per generarlo un ad per un free generator quindi mi devo guardare una pubblicità per non lo so 25 secondi prima di generarlo benissimo ce l'ho fatta gli dico di generarla e vediamo un po la storia della termodinamica ecco perfetto me lo da in come si dice in italiano guardate come mi ha dato tantissime idee poi magari qui posso posso prendere alcuni spunti e così via beh questo diciamo è un aiuto per scrivere ma magari per scrivere sarebbe molto più interessante ad esempio no scusate un template la cosa che io uso spesso 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 è proprio quella sulle email e quindi write an email to write sick leave email job application e così via poi tu glielo dici in italiano e lui ti risponde in italiano benissimo andiamo a vedere l'ultima l'ultima è un generatore di immagini io purtroppo mi sono già quasi finito tutti i credit non so se poi mi si rifillano magari domani e qui ai crediti qui ad esempio puoi dirgli lo stile con cui vuoi le immagini guardate creare usando uno stile tu crei delle immagini magari seguendo uno stile anime oppure anime vintage oppure in base ai personaggi la fotografia e così via i portraits vabbè queste sono quelle che ho generato io ieri per prova mi sono quasi finito i crediti però dai cerchiamo di generarla una oggi beh visto che ce l'abbiamo con la ferrari mettiamo e ferrari in e deep lake vediamo un po che ci fa gli dico fine di generarlo con questo stile qui vediamo vediamo quattro immagini gli dico di crearlo ecco vedete mi sono finiti i crediti scusate vabbè poi vi faccio vedere quelle che già ha generato però guarda abbiamo una notizia positiva e cioè mi diceva mi dice torna alle due di pomeriggio per avere ancora cinque crediti liberi scusa cinque crediti di nuovo vabbè non so perché io qui ne vedevo uno però guarda ti faccio vedere quelli che ho generato prima gli ho chiesto di generare un laboratorio con delle persone vedete come mi ha generato questa cosa qui gli ho chiesto di generarlo su una immagine mi ha generato i cavalli poi mi ha generato sta signorina non so forse ho sbagliato a scrivere qualcosa e questo anche generarlo ai in base ad un'immagine che io gli avevo caricato bene anche scusami se non ti ho fatto vedere la foto però magari abbiamo visto che ho già le due mi si rifillano i crediti con notizia positiva ottimo quindi scrivi qui nei commenti quale di questo è il tuo preferito io non te lo dico però già l'ho scelto uno preferito e di sicuro adesso lo inizierò a ad utilizzare in maniera pesante beh forse ne hai capito insomma mi piace parlare con l'intelligenza artificiale forse perché non lo so perché vabbè dai iscriviti al mio canale questo sono tutti gli altri miei social continuo a seguirmi e grazie 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 e ti ringrazio tantissimo per tutto quello che fai per me alla prossima però prima di partire lasciatemi ringraziare lo sponsor di oggi che è questo qui hank beat mi hanno dato da provare queste cuffie e 700 che mi hanno davvero stupito sia per la cancellazione del rumore sia per la qualità del suono e non ultimo per la durata della batteria infatti sono comodissime quando le metti e davvero non le senti per anche tantissimo tempo io sono qui spesso a dover montare i video quindi a concentrarmi quindi magari a studiare allora porto le cuffie le indosso per tantissimo tempo e queste adesso sono le mie preferite a studiare ma stagio Grazie.